ce l'hanno ricordato a me sembrava di essere civile più spesso però evidentemente no si rivolgeva tutto in un giardino parenti apparenti 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 vai dici è niente la cera dei cretini è la seconda volta che noi la facciamo abbiamo fatto la prima volta nel 2000 per due anni e l'anno scorso l'abbiamo ripresa perché nessuno l'aveva nel frattempo ripreso da dieci anni a questa parte allora abbiamo deciso di rifarla noi ed è andata altrettanto bene come dieci anni fa e quest'anno per il secondo anno quindi praticamente la cena di cretino abbiamo fatto da quattro anni in realtà due anni prima e due anni adesso ed è una commedia molto divertente anche perché sembra scritta per noi insomma è una commedia in cui la gente ride 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 un meccanismo facile con un film non un cretino con un sempliciotto neanche sempliciotto una persona candida che essendo un candido fa come l'elefante nel negozio di cristalleria insomma con di fianco una carogna che cerca di fargli dei danni invece i danni li subisce quindi il meccanismo proprio comico classico classicissimo ma sai l'unica differenza che ci può essere è la maturità del passare degli anni dell'esperienza perché non è stato cambiato assolutamente niente sono stati cambiati due attori ma il meccanismo la regia è sempre quella è logico che è diventa più corposa la questione perché con l'esperienza che ha avuto negli ultimi 10 anni di teatro metti dentro quelle cose quelle sfumature che prima non esistevano ma che servono moltissimo vabbè ma è obbligatorio se non cresci sto lavoro è meglio che fai il pizzaiolo onestamente per cui senza offesa per il pizzaiolo un saluto per gli amici non dillo con parole tue sono degli anni che non c'è bisogno allora dobbiamo salutare gli amici carissimi astrigiani astrigiani quelli del teatro astresi come si chiamano sempre meglio astrigiani che astringenti no allora facciamo così astristi 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 quelli del teatro astra insomma voi voi siamo qui per salutarvi ecco perché noi ce ne andiamo e voi rimanete qui esatto noi siamo qui perché anche se eravamo là non potevamo salutare esatto siamo qua e quindi salutiamo loro che sono là ma noi ce ne andremo di là e poi torneremo quando chissà quando ci chiamano noi torniamo e quando torniamo e ci chiamano dove siamo qua e loro saranno sempre là nel frattempo noi vi salutiamo da qua a là